Che non è ancora. Centro spirituale Frattocchie, attraverso Vincenzo, 1991, guida. La funzione dell'energia spirituale e mentale di giudizio, che passa attraverso il cono posto sopra il cervello, accompagna quindi l'uomo in tutta la sua vita terrena, e dopo la registrazione dei fotogrammi vitali nella camera oscura dell'inconscio, che non è ancora coscienza, ottenuti in ogni incarnazione umana, lo spirito terminerà l'esistenza terrena, risalendo nei piani superiori di esistenza, camminando di pari passo con quanto è stato in vita memorizzato. La memorizzazione avviene di attimo in attimo nella trialità, coscienza, mente, azione. Questo risalire figurato all'atto del trapasso, lo spirito, ora disincarnato, lo esamina in un solo istante, in tutti i suoi fotogrammi, che scorrono in retrovisione, dal momento del trapasso, fino al momento dell'introduzione dell'anima nel corpo fisico della creaturina, che avrà vita sul piano di esistenza terrena. Ciò che è nella vita appena spenta, e scaturito dalla trialità, coscienza, mente e azione, è esaminato tutto in una sintesi perfetta. Ma non è ancora posto il giudizio su quanto è stato realizzato in tutta la vita nella dualità bene-male, luce-ombra. Il giudizio, quindi, avverrà successivamente al risveglio della coscienza in un piano di appartenenza provvisoria, quel piano in cui si esaminerà la propria vita rispetto alla propria evoluzione. Allora potremmo rimanere stupiti di quanto abbiamo svolto nella imperfezione di noi stessi, ed in un solo attimo potremmo considerare quello che abbiamo fatto nel tempo e nel nostro sentire, in proporzione della nostra evoluzione. Certamente non sarà una risonanza vibrativa di contentezza e di apoteosi quello che riterremo nel considerare il vero nostro essere rispetto alla verità di perfezione. Il giudizio in noi stessi sarà quindi effettuato per graduale approfondimento della coscienza animata dall'illusione di essere nel tempo. Con l'aiuto di spiriti guida addetti a far conoscere l'incisione comparativa con tutti gli elementi che ci circondavano al momento della vita in terra e che hanno contribuito al nostro comportamento in tutte le ebenienze della vita terrena. Questo accadrà nel momento prestabilito e questo accadimento è un mistero per il suo verificarsi. Mistero perché occulto. Come occulti sono i cosmi alla nostra conoscenza attuale così è occulto tale procedimento. Lo spirito nostro però contiene già da incarnato e inconsapevolmente tutto questo procedimento e tutto gli apparirà come reale conoscenza quando lo spirito risalirà nell'esistenza cosmica senza le scorie e le pesantezze dell'esistenza temporale.